L'andrangheta uccide a volte come capita negli ospedali e nelle autostrade senza schiamarsi e senza spottare l'andrangheta alla faccia borghese alla foggia borghese all'ipocrisia dei microfoni, delle conferenze quando blatte erano parole, 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 cravate cravate, cravate, parole e cravate, parole e cravate mi scuso se vi mostro il mio dolore a distanze ravvicinate sono un professore forse di matematico e i numeri sono per me il mantra che serve a svuotare la mente come gli attori svuotavano varie polmoni gridando la loro voce dentro una maschera e la maschera da cui uscivano quei suoni diventava persona solo un professore un recipiente di carne umana che fatta involucro a quella sostanza strana e sacra che gli antichi chiamavano l'anima grazie a tutti